Ciao ciao a tutti, innanzitutto mi scuso per questa voce da drag queen alla, come si chiamava, Amanda Lear, che cantava Voulez-vous, Round of Tomorrow, ma ho avuto un abbassamento di voce, tra tosse, raffreddore. Ehm, purtroppo io come vedo il primo solo, il primo tiepidino, mi metto, esco sul balcone con la canottiera, con la maglietta a me, con maniche corte, per cui i risultati poi sono questi. Però mio marito dice che ho la voce sexy adesso, ma non lo so, a me sembra da cornacchia, però, niente, torniamo a Bomba. Volevo farvi vedere queste cosine che ho comprato su Bonprix, Bonprix, anzi, non Bonprix, Bonprix, approfittando di uno sconto del 10%. Io poi sono passata attraverso quel famoso sito che fa guadagnare, per cui ho avuto anche un rimborso di quasi 5 euro sull'importo speso, non è male, insomma. E vi faccio vedere subito. La prima cosa che vi faccio vedere è questo abitino di jeans, perché io sto già pensando all'estate. Vedete, è un po' scolorito, è proprio il classico jeans, questi bottoncini, questo fiocchetto sbracciato. E malgrado sia jeans è molto 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 leggero, poi cade così a sacchetto, quindi lo userò penso probabilmente in casa, ma non è detto, magari con qualche accessorio un po' colorato lo posso portare anche fuori. È rifinito molto bene, l'ho pagato 9 euro, davvero poco. E ripeto, è davvero molto grazioso, io l'ho già provato, ho indossato ed è molto molto carino. Poi quest'altro abitino che invece ho pagato ben 15 euro, 14 euro in un anno. Ed è un po' più, diciamo così, elegantino, è blu scuro, anche se forse può sembrare nero. Eccolo qua. Blu scuro, con questi grandi pois bianchi, che nemmeno sono bianchi, ma un colore è cru. E ha questa fuschacca danno da reinvita. Ecco, questo sicuramente si può portare tranquillamente anche fuori, chiuso da una bella cerniera dietro. Ed è leggerissimo, ha il corpino piuttosto aderente, invece sotto la gonna è ampia ed è tutta foderata. Poi c'erano anche due maglioni per mio marito, maglioncini di cotone, molto carini, devo dire. Però quelli non ve li faccio vedere perché tanto non ci interessa, se mi sente. E poi ho acquistato qualche maglietta. Ho paura di aver esagerato con la taglia, però anche se sono un po' morbidi addosso, va bene lo stesso, da portare con i pantaloni leggeri di cotone. Una è questa, è quella che ho pagato di più, ho pagato 10 euro, 9 euro e 90. E gli altri invece li ho pagati tutti, 7 euro. Questa è fatta così, è bianca con piccoli pois neri, a questa fascia bianca, in basso, collo a V con queste arricciature. Molto molto graziosa. Poi, questa, ma che voce, questa grigia. Togliamo la carta, vedete le apro proprio con voi adesso. Ho provato solo gli abitini e gli altri, perché se non fossero andati bene li avrei chiaramente restituiti. Invece le magliette, anche se sono un po' più larghe, non fa niente. Comunque, no, vederle così mi sembra anche che vadano bene. Questa grigia con questo bordino bordeaux al collo, che è fatto in questo modo, vedete, così. Il bordino bordeaux anche sulle maniche. Anche questa molto semplice, di cotone. Sui pantaloni leggeri di cotone, anche sui jeans, ma anche sui leggings, va bene. Sui leggings non so, perché non è abbastanza lunga di ricoprire le verbole. Poi, questa, sempre un'altra maglietta, semplicissima, questo color blu petrolio, con questa, be beautiful, carina. Anche questa, leggerissima anche questa. Io lo sapete, soffro il caldo e devo stare leggera, leggera. Poi quest'altra, come dicevo prima, a parte quella bianca che ho pagato 9 euro, tutte le altre 7 euro, 6,99 per la precisione. E questa è così, questo rosa cipria, con questo gattino che spunta. Carina anche questa, io questi nastrini li odio, va bene. Ecco qua, vedete il spunta e il musetto e la codina del gatto e sotto c'è il pupino. Leggerissima anche questa, ma sono contenta, mi vanno bene. E poi questa invece un po' più festosa, un po' più colorata, ed è fatta così. Questo bel fucsia, con questa stampa davanti. Molto molto estiva. Summer holiday, summer holiday, vacanze estive. Anche questa, leggerissima, perfetta per l'estate. Ho comprato tutti i t-shirt perché mi sono accorta che ho più canotte che t-shirt. Siccome le bracciotte cominciano a bere le ali di più pestrello, è bene che le tengo un po' più coperte, anche se soffrirò il caldo, pazienza. E questi sono i miei piccoli acquisti in Bonprix. Io vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso. Nel prossimo video sperando di avere la voce un po' più decente. Ciao ciao!